benvenuti e bentornati a teca break dopo una brevissima pausa dovuta alle festività di pasqua siamo ritornati ma come i più arguti di voi avranno notato non siamo nella nostra solita sede siamo infatti a roma ma perché siamo a roma non ve lo dirò io ce lo diranno i nostri due ospiti riccardo nobili sales director di tegdata e cristiano piccioni field sales executive di tegdata ciao riccardo e ciao cristiano ciao ciao bene vabbè la domanda viene un po da sé no perché siamo a roma perché tegdata è a roma finalmente finalmente vi aggiungerei finalmente siamo tornati a roma diciamo che dopo i fasti del passato di tegdata e prima ancora torniamo a roma e in un momento particolare come quello che stiamo vivendo che abbiamo vissuto negli ultimi due anni torniamo sul territorio crediamo che quei rapporti umani siano fondamentali per per il business e quindi eccoci qua in una location fantastica dove ci aspettiamo di creare questo hub per poter tornare a parlare a creare business con i nostri partner così aprire un nuovo ciclo sia di tegdata che del business marketata dovete venire qua assolutamente anche perché la location merita tantissimo cristiano qui prendo qualche merito diciamo che ci abbiamo lavorato negli ultimi mesi ci abbiamo lavorato con un'attenzione particolare diciamo che la componente umana è stata molto forte infatti il nostro manager dice sì facciamolo c'è necessità di essere a supporto di essere a fianco dei nostri partner dei nostri vendor le premesse in questi primi mesi sono molto buone sperando di sicuramente di continuare così e che dobbiamo dire adesso adesso dobbiamo usiamolo 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 e anche per giocare perché adesso come ogni tecabre che si rispetti c'è anche il gioco giochiamo quindi per questa puntata speciale abbiamo pensato a un gioco specialissimo talmente speciale che ci chiederanno i diritti d'autore vero o falso facciamo un po milano un po roma e un po il mondo un milanese impiega 10 ore al mese per parcheggiare vero o falso falso e invece vero solo 10 ore al mese adesso arriva la domanda per roma un po storica il più antico ponte di roma qual è il ponte fabricio vero o falso è invece vero niente milano roma in storia gli utenti di internet nel 1982 erano circa 200 non vale sbracciare questo vero o falso 82 vero la prima acqua ci sono dei suggerimenti qui però il superlativo assoluto dell'aggettivo acre e acrissimo e acerrimo ma niente adesso è andata bene la prima adesso me li storia mai mai bugerato ma in italiano sono bravino e cabra che il forma più divertente di sempre vero o falso verissimo e commerciali che sono proprio commerciali commercialisti verissimo noi vi ringraziamo grazie riccardo e cristiano grazie a voi qui e noi ci vediamo la prossima puntata ciao grazie ma io devo parlare con te devo guardare in camera il ponte più vecchio è quello dell'immacolata mi è portito un po proprio hai tolto lo spinaccio quando si mangia uolala 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 uol